Diciamolo, ci è arrivata proprio adesso la notizia che pare che Giovanna abbia raggiunto una dilatazione, si sia dilatata in maniera ottimale per favorire il parto proprio adesso, in questi minuti che siamo in onda, quindi facciamo un applauso a tutti quanti, veramente, vai, vai, vai Giovanna! Le dedico una canzone così, auguri Giovanna per questo momento bellissimo, e io spero non finisca proprio mai, lo so sarà difficile, è il secondo dolore più forte del mondo e io spero che tu lo stia sostenendo con forza, e spero tuo figlio nasca proprio come lo vuoi tu, Sano innanzitutto, ma non pensarci, pensa a spingere e sgrava questo miracolo, Giovanna! Ho visto un video su YouTube, giuro faceva proprio schifo, ma in fondo sgrava questo miracolo, se puoi! La mortalità ostretica è bassissima in Italia e in Francia, ormai ne muore al massimo una su cento I medici sono tutti bravi, ricordo quello che mi ha fatto nascere, ormai trent'anni fa l'ho incontrato, mi ha riconosciuto e mi ha detto, ma certo come no, s'ho fatto nascere! Sgrava questo miracolo, Giovanna! Sgrava questo miracolo, per noi! Ho letto su Focus U, New York e di parto non si muore più, e quindi... Sgrava questo miracolo, per noi! Sgrava questo miracolo, Giovanna! Sgrava questo miracolo, per noi! E dai tra i diciott'anni, e di noi, sono un mangio e lenne, Sgrava questo miracolo, per noi! Game on! A una pezza di rumeni! Game on! Game on! Game on! Game on! Game on!